Mancano pochi giorni all'inizio della nuova season e anche voi pensate che dovete già sbloccare questa skin e livellare molto velocemente Per questo video vi do 5 anni per andare a lasciare un bellissimo like quindi 5,4,3,2,1 e vai a lasciare un bellissimo like in questo momento si può ricevere anche tantissimo XP Mi raccomando utilizzi il codice codingamer582 così riceverai PXP, mi supporterai e farò altri video del genere Ora andiamo qui e mettiamo questo codice quindi 288964748906 Andiamo a premere invio la versione dovrebbe essere la 19 anzi raga andiamolo a scrivere nel dubbio La partita deve essere pubblica ma private perché se no il glitch non andrà Perfetto ragazzi disponeremo esattamente in questa posizione noi dobbiamo andare esattamente da quest'altro lato Quindi lifetime kill leaderboard esattamente qui Quindi dobbiamo arrivare e dobbiamo andare esattamente qui dove troveremo questo palo della luce Quindi ci mettiamo esattamente in questa posizione Facciamo un balletto e ci dobbiamo muovere un pochino così Ok ragazzi ecco qua dopo qualche secondo mi porterai in questa zona e dobbiamo aspettare esattamente 10 minuti Ok perfetto ragazzi ora che sono passati i 10 minuti andiamo a mettere questo codice Mettiamo esattamente 8 poi andiamo a mettere 3 e poi andiamo a mettere qui 7 Ok quindi questo qua è il codice ora andiamo a premere qui questo pulsante Confirma all'XP button e ora apriamo qui start fk xp Ora ragazzi vediamo il rampino e andiamo esattamente in questa zona quindi fino a qui Qua apriamo admin xp e così ci sarà davvero tantissimi xp Ok ragazzi mentre ci continua a dare questi xp ora qui dobbiamo aspettare esattamente 4 minuti Ok perfetto sono passati questi 5 minuti ora andiamo a premere qui il pulsante admin xp Così ci incomincerà a dare alt xp poi andiamo esattamente in questo punto Qui troveremo un altro pulsante secret xp e così raga ci ne continuerà a dare altri Poi raga non abbiamo finito ora andiamo esattamente in questa direzione quindi esattamente in questo punto raga perché qui troveremo un altro pulsante admin xp Poi raga andiamo esattamente qui sopra e poi esattamente qui quindi in questo punto raga troveremo un altro pulsante secret xp Poi ragazzi l'ultimo passaggio per ottenere altri xp è andare esattamente qui qua raga troveremo questi pulsanti Quindi partiamo dal primo al secondo terzo e poi apriamo questo qui Ci porterà in questo lift raga ci continuerà a dare xp all'infinito in fk Quindi mi raccomando codici con ingame 72 quindi c'è ragazzi vai Ciao a tutti